Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco Renzi, sono un giornalista come voi e organizzo questa manifestazione, in più sono anche il presidente di LSD che è quel sito che studia il giornalismo, emanazione della Federazione Nazionale della Stampa, noi facciamo questa ricerca tutti gli anni sullo stato della professione che forse qualcuno di voi ha visto. Siamo qui a Torino perché da qualche tempo, dall'inizio dell'anno in corso, la nostra manifestazione che è nata e ha vissuto a lungo in Toscana è diventata itinerante, quindi ci muoviamo, siamo andati a Roma e ora siamo venuti a Torino, poi nei prossimi mesi saremo a Milano, a Venezia, eccetera. Pur mantenendo le nostre radici toscane naturalmente, quindi faremo anche l'edizione più lunga di due giorni e mezzo a Prato a gennaio. Chiamerei qui con me il segretario di Stampa Subalpina che è poi il nostro principale referente su Torino per questa manifestazione, per i saluti di pragmatica e poi cominciamo. Buongiorno, benvenuti a tutti, scusate il ritardo, l'affluenza di colleghi è stata anche superiore alle aspettative, quindi insomma un attimo, qualche minuto di pazienza ancora. Io vi porto il saluto, questa è una manifestazione per noi importante perché in un momento di difficoltà, di crisi per il nostro mestiere che credo tutti voi conosciate, ci consente di riflettere, interrogarci su quello che sarà, su quello che è il nostro presente, anzitutto anche se talvolta capita di non rendersene conto e soprattutto su quello che sarà il nostro futuro. Lo facciamo in uno spazio particolare, Toolbox non è uno degli spazi storici, tradizionali della nostra categoria di abitudini nei corsi di formazione, molto spesso li facciamo al Circo della Stampa, Palazzo Ceriana che rappresenta la storia. Lo facciamo in questo posto perché da qualche mese all'interno di Toolbox, che è questo enorme co-working al cui interno lavorano 500 professionisti di ogni genere, abbiamo aperto come associazione stampa un co-working riservato ai freelance. L'abbiamo aperto qua dentro, poi adesso cederò la parola a Marco Bobbio che è uno degli ospiti, oltre che il responsabile dei freelance della Subalpina, l'abbiamo aperto qua dentro anche perché crediamo alla contaminazione tra le diverse professioni, crediamo che la nostra professione stia cambiando e crediamo che anche il confronto quotidiano con chi svolge professioni intellettuali laterali, è la nostra che pure sono diverse ma sono laterali, sia comunque molto importante. Quindi d'ora in avanti, quelli che saranno i corsi di formazione che guarderanno più all'innovazione, al futuro, almeno una parte di questi, li faremo in questo spazio, nell'auspicio anche che magari qualcuno di voi possa decidere di venire a occupare una delle scrivanie del co-working che abbiamo aperto qua dentro. È un esperimento, è il primo in Italia, però credo che il compito del sindacato sia certo quello di difendere i diritti, ma sia anche quello di costruire, di edificare dei ponti per il futuro ed è quello che noi cerchiamo di fare. Quindi grazie a tutti e cedo la parola a Marco che vi spiego un pochino meglio come funziona questo spazio. Grazie Stefano, ciao a tutti, grazie di essere venuti, siamo molto contenti di ospitare qua a Digit, non a caso è la prima manifestazione che abbiamo deciso di organizzare grazie alla disponibilità di Marco Renzi, di LSD, proprio qui a Toolbox, perché la nostra professione più di altre vive questa sindrome da età del loro finita. La crisi è vero, ha colpito duro in questi anni e c'è chi rimpiange il tempo in cui il giornalismo si faceva nelle redazioni, in cui i giornali vendevano 6 milioni di copie e si sfidavano a colpi di allegati. Purtroppo questa età è finita e non tornerà mai più e allora bisogna pensare a come fare un giornalismo in modo diverso, a come ricreare quel senso di fare un prodotto collettivo, quali sono i prodotti di informazione, che siano giornali, che siano siti, che siano blog, post su Facebook, pagine Facebook e cose simili. Noi abbiamo pensato che un modo per sottrarre i giornalisti all'isolamento, i giornalisti freelance che spesso sono costretti a lavorare a casa sia questo, cioè costruire un luogo di lavoro, un co-working in cui ognuno può venire la propria professionalità con le proprie idee, con i propri lavori e trovare un ambiente favorevole e stimolante dove immaginare nuove forme, nuovi modi di fare il giornalismo insieme ad altri colleghi che sono qua e insieme e dentro un ambiente che è questo dove vivono professionalità diverse, programmatori, designer ma anche architetti, commercialisti, organizzatori di eventi, insomma è un ambiente stimolante e effervescente. Per quanto ci riguarda le postazioni a disposizione dei giornalisti sono 16, sono aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per cui chiunque fosse interessato a lavorare o avesse necessità anche sabato e domenica sa che qui dentro può entrare quando vuole. Oltre alla postazione ovviamente viene offerto, c'è a disposizione della connessione internet con una rete ultraveloce e in più si è accesso a tutte le strutture e i servizi che Toolbox offre ai co-worker e quindi dal calendario di appuntamenti che conta più o meno una quarantina di incontri mensili, alle sale e riunioni, alla cucina, al terrazzo e a tutti anche gli aspetti come dire relazionali e ludici che questo posto offre. Chi fosse interessato nella pausa pranzo possiamo organizzare un piccolo giro per farvi vedere dove sono le postazioni, quindi ci possiamo trovare qua fuori alle 1.10, l'1.15 appena finisce la sessione mattutina e fare un giro per capire come funziona questo spazio e come funziona il posto per i giornalisti. Ringrazio Marco, passo la parola.